Musica Abbiamo scelto Macbeth perché è il testo più visionario di Shakespeare, quello più irreale. Comincia con l'apparizione delle streghe e ossessionato da predizioni, a una delle sue scene madri in un coltello che appare e un altro in una sonnambula che delira, il tema del rapporto tra realtà e irrealità è attraverso tutto lo spettacolo. E noi credo abbiamo fatto uno spettacolo profondamente inquietante e surreale, con una grande presenza di immagini proprio in quanto spettacolo visionario. C'è una frase nel Macbeth su cui si sono interrogati decine di studiosi. C'è l'allusione della Lady ad un allattamento, il che fa pensare che ci sia stato un loro figlio. Però di questo figlio non c'è traccia, anzi i coniugi regnanti ma le dicono la sorte che non gli ha dato figli, non gli ha dato discendenza. Allora io ho immaginato che questo figlio sia un figlio perduto, un figlio morto, che questo abbia reso così slabbrata, così scollata la mente dei protagonisti e questo bambino morto aleggia nella vicenda, persino nel manifesto dello spettacolo. Ringrazio i miei collaboratori non attori, quindi Marta Crisorini Malatesta che firma per la prima volta una scena per me, ho fatto tanti anni l'assistente e secondo me firma una scena magnifica, i costumi di Zaira De Vincentis, Gigi Saccomandi che oltre che essere il disegnatore luci è anche un po' il mio drammaturgo, poi come in altre versioni di Teste Stranieri Gianni Guerrera che pure tradusse mirabilmente e con grandi complimenti l'Antoni e Creopatra e Alessandro Papa per quanto riguarda questa grande parte di immagini. Poi c'è il cast, ovviamente a cominciare dal protagonista, da Macbeth che è interpretato da Luca Lazzareschi, Gaia Prea fa invece Lady Macbeth e poi ci sono quella che è diventata la squadra di questa compagnia, Jacinto Palmarini, Claudio Di Palma, Paolo Serra e tutta la compagnia che si avvale anche dell'innesto come avvenne già in Orestea di due collaboratori israeliani molto importanti, Noa Vertaim per la danza e la compagnia napoletana Korper e Ran Bagno per le musiche. Grazie. Grazie. Grazie.